Salve a tutti ragazzi, in questo video vorrei farvi vedere una cosa pazzesca in questo Mortal Kombat 11 Vi farò vedere la Friendship di Terminator La Friendship di Terminator, si chiama Stuntman, però lo dovete fare media e vi dico come si fa Dovete fare sinistra, giù, sinistra, giù, X Ve lo faccio vedere e poi ditemi se questo video vi piace o non vi piace, fatemelo sapere Ora vi faccio vedere la Friendship di Terminator Guardate che fa, fa lo Stuntman con la sua moto Bella è stata questa Friendship di Terminator Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e condividetelo il video Così lo fate sapere a tutti delle Friendship di Mortal Kombat 11 E poi non so se ve le farò vedere tutte Per ora questa Friendship di Terminator è stata bella Fa anche le pose fighe Grazie 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 a tutti.